ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato alle disquisizioni caotiche e disquisiamo caoticamente cosa significa significa che ci sono delle situazioni nelle quali io mi sento di dover esternare un dato argomento un concetto esprimere qualcosa una mia opinione come al solito perché sono tutte mie opinioni e qui utilizzo questo format per dirle e spesso e volentieri vengono triggerate delle vostre domande che mi ponete quando io vi apro la finestra per poterle fare che ogni tanto capita queste nello specifico sono la seconda parte dell'apertura finestra che avevo fatto circa dieci giorni fa quindi coloro i quali pensavano di essere stati scartati sono invece qua non tutti perché avrò ricevuto un centinaio di domande quindi una ventina di qua una ventina di là poi il resto magari sono anche domande le quali ho già risposto o concetti che ho già espresso in passato quindi vi invito pazientemente ad andare a cercare quelle puntate guardarle così vi togliete il dubbio di cosa possa io mai pensare su di un dato argomento se proprio ci tenete se invece non ci tenete non andate a guardarli però non fate nemmeno la domanda voglio dire no delle due luna ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che questo simpatico rolex yacht master quadrante blu 40 mm di diametro cassa lancetta dei secondi rossa ghiera in platino calibro 32 35 un orologino veramente di qualità e non poteva essere che diversamente orologi di qualità rolex orologi di qualità non ci piace tutto l'ambaradana che c'è intorno non ci piace il glamour l'ostentazione però gli orologi li sa fare cosa gli vuoi dire cosa gli vuoi dire iniziamo con le vostre simpatiche inquisizioni ciao davide che pensi dei nuovi oris diver 65 e secondo te oris farà meglio ad unirsi al gruppo swatch per portare dei calibri eta che cambieranno i calibri base sv200 oppure usare dei calibri sellita più elevati grazie un saluto domanda diciamo alquanto confusionaria che mette già in mostra alcune lacune dell'amico qua dell'amico daniele perché che ne pensi dei nuovi oris diver 65 ok probabilmente intendi quelli che hanno elevato nei quali hanno messo la ghiera in ceramica e hanno elevato l'impermeabilità a 200 metri bene cosa ne pensi tutto il bene possibile non mi ricordo il prezzo ma sicuramente sarà lievitato anche quello perché tanto ormai è moda però sono orologi fatti benissimo ve li hanno portati 200 metri come volete voi come siete contenti voi perché io c'ho il mio con 100 metri di impermeabilità ci ho fatto il bagno al mare in barca ovunque tuffi contro tuffi per 3 4 stagioni quindi problemi non ne ha mai avuti ora prima o poi sarà anche il caso di fargli una prova impermeabilità revisione no passa il tempo però mai avuto problemi con un 100 metri andare al mare quindi ora voi avete quello da 200 potete sbizzarirvi comprarvelo andare a fare le immersioni bravi e secondo te oris farà meglio ad unirsi al gruppo swatch questa qua cosa che cosa uno fa meglio ad unirsi al gruppo swatch decidiamo oggi noi ci uniamo tutti a loro quelle sono dinamiche industriali di aziendali di gruppi giganteschi che si muovono per determinati motivi non è che una casa decide toc toc vogliamo unirci a voi sarebbe veramente contro producente per per l'azienda stessa no entrare a far parte di un grande gruppo ci entri se ci sono le condizioni estreme se sei obbligato se non ci sono altri sbocchi se se c'è un vantaggio sono tutte situazioni nelle quali oris non si trova ora sta lavorando bene uno di quei di quei marchi che spara fuori modelli ogni ogni mese quasi ogni mese poi che sia qualcosa di poco differente ma non come in questo caso l'oris ha visto il dive 65 ci ha messo la ghiera ceramica fatto 200 metri hanno fatto delle migliorie fa sempre modelli nuovi quindi è in salute poi la domanda più insidiosa per portare dei calibri eta che cambieranno i calibri base sv200 cioè perché se ci metti dentro un eta al posto del selite sv200 cambia di molto la situazione sono sempre calibri con la stessa architettura con la stessa struttura diciamo equiparabili anche come qualità tanto più che oris non ha bisogno di di il selita più elevati c'è il calibro 400 c'è i calibri in house non è solo uno ne ha fatto più di uno nel tempo anche il manuale eccetera eccetera quindi se vuole mette quelli se vuole elevare no la fascia base che monta selite sv200 quindi questa è una domanda che non capisco non comprendo la quale ho dato anche troppo tempo di risposta ciao davidi una domanda o meglio una conferma le case orologiere blasonate di alto livello utilizzano sempre e comunque rubini sintetici nei loro movimenti a prescindere anche dalla loro manifattura dei costi elevatissimi io credo di sì io credo che ormai si utilizzino solamente rubini sintetici che sono realizzati in laboratorio sono più performanti rispetto e meno costosi rispetto a un rubino naturale minerale non so nemmeno se no non credo ci sia no ciao davide so che precisi sempre di non essere un tecnico però come consiglieresti ad un neofita di caricare un orologio a carica manuale girando la corona solo nella direzione di carica o facendo anche mezzo giro nella direzione opposta ti faccio questa domanda perché mi è stato detto che girare la corona nel solo senso di carica senza il mezzo giro nella direzione opposta alla lunga può creare dei problemi girare la corona nel senso di carica senza il mezzo giro casomai il contrario mi sa che posto male la domanda nel senso che la carica manuale funziona che si dà il mezzo giro in avanti e poi si continua a dare mezzo giro in avanti era prassi e prassi vedo più che altro da chi non conosce come funziona un calibro andare avanti poi lasciare le dita appoggiate sulla corona tornare indietro facendo frizionare facendo frizionare la tigi la corona gli ingranaggi perché c'è una frizione no trintro 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 quel tro è di troppo non serve a niente è inutile come fare una pedalata in bicicletta e poi invece che fare una pausa e poi ripedalare pedalare poi girare indietro poi ripedalare poi girare indietro non ha senso non serve a niente può creare danni non nel breve periodo nel senso se te giri i pedali alla rovescia la bicicletta non gli succede niente non è che si rompe però è quella operazione inutile in più che porta usura alla corona e al pignone agli cuscinetti a quello alla frizione che non gli permette di girare la rovescia no è un nulla ma nel lunghissimo periodo è qualcosa in più quindi non ha senso andare indietro mezzo 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 giro della corona di carica la carica in avanti e basta una volta che si è abituato a fare così non ti viene più nemmeno da fare il mezzo giro indietro poi non sono un tecnico io però vado la logica ragazzi ciao davide farai mai qualche diretta video oppure collaborazione con altri youtubers no collaborazioni con altri youtubers no negativo assolutamente non è la mia intenzione guarda ultimamente ho ricevuto addirittura uno youtubers che non conoscevo che si è generalista si mi occupa di fare una giornata con nella vita di e mi avevano proposto no ma che mi aveva chiamato anche addirittura la sua segretaria figurati un po come siamo messi lì e io lì per lì di solito dico sempre di no si va e proviamo facciamo questa cosa qua non c'era anche un sacco di visualizzazioni milioni di poi quando mi ha telefonato la segretaria che mi ha chiesto allora mi spiegami come funziona la tua giornata già lì mi si è scombussolato tutto ma cosa sto a fare ma perché ma cosa stiamo con una pagliacciata e tornavo guarda mi dispiace cambiato idea cancello tutto ma no ma non sono informazioni per sapere come per creare il video come come si comporta la tua giornata cioè questo qua sarebbe dovuto venire da me seguirmi una giornata per vedere cosa faccio io ma cosa ma non ce lo voglia ma non ci penso nemmeno quindi declinato solitamente dico di no poi prima o poi una volta che dirò di sì succederà accadrà però per il momento sto bene proprio da solo sono un po' associare io sono un po' associare non voglio avere a che fare con nessuno che tanto poi dopo ti si rigira tutto contro no quelle due o tre volte che ho supportato degli altri youtuber nel campo orologero 1 2 3 e poi dopo ti si fanno il video contro ti parlano male delle cose che dici e allora cosa cosa ti ho supportato a fare cioè tanto vale che subito dall'inizio non fa non faccio comunella con nessuno ognuno per la sua strada così anche se poi dopo dici delle cavolate riguardo a quello che ho detto io ma non mi non mi tange ho la coscienza pulita il diretta video le dirette video l'ho fatta all'inizio ho fatto qualche diretta video e avevo contemporaneamente in streaming un sacco di persone ma veramente tante che non riuscivo a stare dietro alla chat era impossibile no quindi ho deciso a un certo punto di farle solo per gli abbonati che sono poche centinaia quindi era più gestibile però purtroppo non ho una connessione internet adatta proprio veramente qua in zona non c'è niente di la classica connessione internet ma mi dà dei problemi sempre sull'audio quindi siccome non ho voglia di risolvere questi problemi non ho voglia di fare io odio odio proprio questa cosa del anche delle call in videochiamata no usa tanto nell'ambiente le facciamo una call ma che call scrivi un messaggio di nero su bianco quello che vuoi che quali sono le richieste quali sono i termini e poi poi vediamo no la call la fate voi ciao davide in un video passato hai parlato di come creare contenuti inerenti in loro rogeria su youtube sia diventato il tuo lavoro cosa significa per te essere uno youtuber quali impegni comporta da portare a termine su base quotidiana e tu come ti approcci ad essi e chi sei marzullo sei come cosa significa per te essere un youtube e niente significa avere trasformato la mia passione in un lavoro remunerato e comporta poche poche differenze una responsabilità maggiore perché adesso tutto è su questo su questa piattaforma cioè se un domani youtube dicesse ma io la pubblicità non pago mica più ma cosa volete oppure di mezzo gli introiti e io non c'ho niente non è che poi c'è un contratto che dico ma te mi avevi promesso niente mi cala tutto finito e mi devo trovare qualcos'altro per il resto niente la passione che mi spinge la passione che mi spinge a voler guardare gli orologi studiarli sapere il più possibile di tutto che è impossibile e quindi quello che facevo con passione come hobby quello che faccio con passione adesso come lavoro è quello che farò con passione un domani in pensione se io domani dovesse andare in pensione mi arriva l'assegno dallo stato sei in pensione grande benissimo cosa faccio adesso o vado a vedere i cantieri o vado a vedere l'orologiaio mi metto dietro così guardo l'orologiaio che lavora o continuo a fare sta roba qua perché mi diverto mi piace mi piace avere gli orologi per le mani fargli le fotografie fargli le riprese li vedi grandi capisci dove sono i punti deboli capire chi c'è dietro l'azienda andare a fare una visita all'azienda anche se non è il massimo per me capire il mondo degli orologi è questo e collezionare e averceli indossarli fare il tuffo in piscina piena di orologi questo mi piace quindi in linea generale non è cambiato niente sia da hobby a lavoro al futuro quando sarò in pensione ciao davide è un collezione in meccanica grizza micro brand italiano conosci il brand sinceramente lo conosco e non mi sembra un micro brand cioè io faccio fatica a volte a catalogare micro brand da quelli che poi fanno invece gli orologi da catalogo perché se ti vai vedere meccanica grizza hanno un sacco di orologi hanno addirittura uno che è la coppia sputata del rolex gmt batman o pepsi ma mamma mia è una roba obrobriosa poi il resto vedo tutta una serie di orologi fatti che non hanno un senso uno con l'altro cioè sembrano presi da catalogo no fammi 20 di questi 20 di questi non lo so se funziona così la mia idea è questa e quindi non mi dà un'identità unica di brand mi sembra una crocchione poi tra le altre cose mi ricordo poco prima del voi quindi stiamo parlando di settembre a cercare quei micro brand che sono scomparsi perché per mia curiosità ho detto ma tutti quei micro brand che si sentiva parlare qualche mese fa ci sono ancora esistono ancora ho fatto una piccola ricerca come ho fatto per fare questa ricerca no vai a vedere se c'è ancora il sito web ma la cosa più semplice andare su instagram guardare il loro account instagram e guardare qual è l'ultimo aggiornamento no ce ne sono certi che l'ultimo aggiornamento risaliva ad anni fa e quindi capisci che non ci sono più meccanica grizza è uno di questi io vado sono andato sul loro account instagram l'ultimo post ed è il 2021 ora che un'azienda in forma florida che sta producendo che sta facendo marketing si afferma al 2021 con i post mi sembra strano quindi secondo me ha chiuso ha chiuso i battenti oppure ha aperto un altro account instagram che io non so comunque voi che siete qua che state guardando ditemi voi se è vero che meccanica grizza ha chiuso o meno buongiorno davide che ne pensi del panerai luminor 2 da 38 mm panerai luminor 2 da 38 mm è delicato è delicato è una delicatesse è un orologio che non rientra nei miei gusti non fa per me mi piacciono gli orologi piccoli ma panerai da 38 sinceramente fatico poi tra le altre cose l'impermeabilità di soli 50 metri 50 metri sono sufficienti a fare quasi quasi tutto io coloris big crown ho fatto anche il bagno al mare col 50 metri questo qua anche la il fondello mi sembra inserito a pressione non è a vite 50 metri poi cos'è che c'ha è automatico automatico insomma il questo panerai qua da 38 mm non fa per me poi chi lo vuole comprare come orologio da per tutt'altra cosa rispetto ad andare al mare o legato all'ambiente marino lo faccia cioè non è che c'è un problema non è che 38 40 ma ma sì ma va bene tutto è tra le altre cose ho visto l'altro giorno sul mio gruppo telegram ciao amici telegram la foto di uno con un panerai da 44 mm che si vede che c'è al polso svantaggiato dal polso la signorina sembrava un padellone e lì mi sono un attimino spaventato ma che sei così grande ma io non lo voglio più da 44 e ora sono passato al panerai da 42 mm amici cercate di dissuadermi dal 42 mm o convincetemi a prendere il 44 convincetemi a prendere il 47 per ora sono tornato al 42 mm che secondo me quello un pochino più d'aumento senza però strafare domanda che ne pensi dei nuovi lorus sotto marca seiko che spopolano su amazon suggerimento metti i sottotitoli in inglese nei tuoi video avrai più seguito perché il format eccellente no non intenzione di mettere i sottotitoli in inglese non mi interessa espandermi nel mondo tipo risico non mi interessa assolutamente non mi interessa anche tanto più che i sottotitoli non possono rendere quello che intendo dire la mia espressione i modi di dire i modi di fare le battute no in inglese metti i sottotitoli cosa cosa mi ci scrive sotto like cicciolina said e cosa viene fuori una puttata quindi no in inglese non mi interessa diventare il boss di youtube del mondo e loro se sono un marchio decente così come vagari sta a citizen loro sta secco sotto marca marca inferiore chiamala come vuoi fa sempre fa parte del gruppo e realizza quegli orologi entry level alla portata di tutti che secondo me sono quelli più indicati per avvicinare i neofiti al mondo dell'orogeria no c'è chi dice che bisogna per avvicinare i giovani al mondo dell'orogeria servono i pagani design gli addis dive servono quelli lì perché 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 andare a prendere le copie rimarchiate di altri orologi più famosi basta prendere un vagari un loros e altri di timex bulova che sono sempre lì a 100 200 euro e ti porti a casa degli orologi validi di un marchio valido con un design cercato almeno un po curato a poco prezzo e ti avvicini al mondo secondo te è sensato acquistare pezzi sparsi di un orologio e poi assemblarlo da soli tipo movimento quadrante lancette cassa bracciale cinturino e farselo su misura come si vuole ovviamente senza andare a realizzare cloni o homage sì che ha senso ognuno è rimasto qua ognuno può fare quello che vuole nella vita cioè puoi farti anche una collezione di orologi tutti fatti assemblati ma qual è il senso ma per me non ha senso voglio dire uno uno lo puoi anche fare per divertimento te ne fai uno il tuo orologio da battaglia questo qua l'ho assemblato io l'ho assemblato io cerchi di farlo più originale possibile no poi il resto l'orologeria gli orologi da indossare è perché te vuoi avere anche un pezzo di quel marchio lì cioè non nascondiamoci dietro un dito tutto bello i calibri tutto quello che vuoi ma vogliamo anche avere un brating al polso un long jean al polso un rolex al polso perché mi vanno a rappresentare tutto quel background che c'è dietro quella quella azienda che poi sia marketing spicciolo una storia persone che hanno fatto la storia situazioni particolari tutto quello che vuoi ma io ho quello che c'è anche adesso perché quando io mi prendo un long jean al polso io so che la sua santi mie c'è un museo hanno fatto un museo come c'è l'omega c'è la zen è un museo dove c'è tutta la storia del passato io voglio essere parte di quella di questo passato no quando io mi vado a vedere a visitare il museo long jean entro dentro e dico c'è anch'io un orologio di questo di questo minchione di brand qua che ha fatto tutta sta roba c'è anch'io me lo assemblo da solo io dico c'è il mio orologio sono un ganso l'ho assemblato io mio orologio l'ho assemblato io uno va bene no poi dopo lo rimetti lì dopo di timore mi metto anzi questo oris qua che funziona così secondo me ciao davide personalmente parlando qual è la cosa più bella che ti è capitata da quando hai intrapreso questo ambito lavorativo hai avuto qualche soddisfazione di cui sei rimasto particolarmente felice ciao continua così particolarmente felice non lo so non so se intendi a livello di quando ad esempio oisa mi ha chiesto di andare a fare un video da loro questo per me è stata una piccola soddisfazione cioè stiamo parlando del nulla nel senso che siamo nell'ambito italiano ma per me è stata una soddisfazione no che mi hanno chiesto di andare là come quando sono andato per esempio a morire la croaco anche se sono cose che praticamente io detesto cioè io sono veramente pigro ozioso e sociale quindi per me andare muovermi e andare in un posto è una cosa che è veramente contro natura cioè è veramente difficile per me però una volta che l'hai fatta dopo la soddisfazione c'è di essere andati a fare una visita lì oppure in piccolo quando ti riconoscono no chiaramente se vai a un mercatino degli orologi e quasi tutti ti riconoscono perché siamo nell'ambiente è una nizia sappiamo chi siamo no ma quando vai a fare la spesa all'esse lunga se salta fuori uno che ti ferma che ti riconosce fa specie mi fa piacere nel senso vuol dire che sono arrivato a farmi conoscere da persone da una cerca un po più ampia che poi ti ferma anche magari al supermercato quello il mio ego ne esce rafforzato non mi piace invece tutto quell'aspetto di questo mondo di questo ambiente nel quale poi esiste la glamour no queste cose qua ci sono altre che sono veramente più adatti a questi tipi di ambienti no andare alle aste oppure andare alle manifestazioni quelle chic come fosse la milano watch week dove ci sono tutti questi marchi tutta la gente è vestita per bene col calice in mano non fa per me io se posso se posso finché posso cerco di evitare queste situazioni di andarmi a infilare in situazioni nelle quali poi quando sono lì dico ma per chi me l'ha fatto fare ma perché sono qua voglio andare a casa voglio andare a vedere i gattini su instagram questo io non mi ci trovo in quelle situazioni lì e purtroppo ho anche una ho anche una semplice cena di lavoro no con il rappresentante di tale marchio vai a fare la cena di lavoro lì perché ti volevo far vedere gli orologi nuovi sono situazioni che a me mi mettono un po in difficoltà io sono un pochino più asociale no stiamo distanti scrivimi nemmeno telefono mi scrivimi così leggo quando voglio io e poi ti rispondo quando voglio io ciao davide in quali casi potresti giustificare un orologio a batteria in tutti quei casi nei quali all'acquirente piace l'orologio a batteria nel senso che vi piace l'orologio al quarzo a batteria compratevelo compratevelo e non c'è nessun problema non è che vietato che sono dei mostri che sono nemici è solo una batteria che è un po' in fin garda per il resto potete fare quello che volete io personalmente ci deve essere qualche motivo particolare per cui voglio un orologio a quarzo e a batteria e ce ne sono una marea possono essere i timex che ho al quarzo da 50 euro da battaglia ce ne ho due ce ne ho due perché mi piacciono degli orologini pronti così che poi non uso mai però mi piace l'idea di avere due orologini pronti così da battaglia oppure ho a batteria cosa c'è il quarzo di il super quartz di longin l'ultra quartz super quartz è quello che faceva alberto angela ultra quartz di longin che è un calibro particolare uno dei primi che hanno realizzato loro quindi c'era un collezione a batteria c'ho l'ultronica che è al diapason di longin ce l'ho perché è anche quello un calibro particolare c'ho il calibro di quello realizzato da ss139 e che è elettronico che c'è ancora il bilanciere e la batteria perché è un calibro particolare oppure cosa posso giustificarlo un calibro al quarzo particolarmente pregiato ce ne sono una marea di orologi che un calibro al quarzo pregiati no mi viene in mente l'oyster quartz vuoi prenderti il rolex oyster quartz è anche senso per me al momento no non ce li spenderei soldi però può aver senso può aver senso prendere i quarzi ultra termocompersati ce ne sono tante le situazioni quelle che io invece non sopporto non fanno per me è ad esempio prendere c'ho l'acqua terra ecco c'è la versione dell'omega acqua terra al quarzo no può essere fatto bene quanto vuoi non lo voglio oppure i brightening che fa molti orologi al quarzo che hanno anche senso no io non vorrei un brightening al quarzo o forse anche sì forse avrebbe anche senso visto che però no preferisco meccanico insomma ognuno fa un po quello che vuole insomma la risposta finale ciao davide ho voglia di acquistare un orologio quadrato mido multi fort tv o cap camera square complimentoni per il canale ma io andrei su mido multi forte tv è un orologio che quando è uscito non l'ho compreso però anche un po denigrato che poi dopo ho fatto mio nel senso che mi piace un bell'orologio fatto bene e anche a una certa personalità nonostante sia quadrato come tanti ma camera square credo che costino un po meno gli erbelline non me lo ricordo tanto bene la differenza di prezzo però io si mido multi forte mi piace di più dai tra gli orologi che hai venduto quale ricompreresti tra gli orologi che ho venduto sicuramente l'omega planet ocean col calibro 2500 da 45 mm di diametro cassa con la ghiera arancione in alluminio che si graffia solo a guardare bello c'è una luminescenza che quando ti è in autostrada in macchina no a un certo punto entri in galleria po e cos'è una lampadina cerca qualcosa quello lì lo comprerei però è un po aumentato poi non lo so vedremo però la ghiera arancione piaceva hai mai pensato di fare un corso da orologiaio anche perché ne sai più di tanti altri non è vero tanti altri di chi dell'uomo comune magari un corso da orologiaio no non ci ho mai pensato non ne ho voglia non fa cioè ci sarebbe un sacco ci vorrebbe un sacco quando io faccio una cosa cerco di farla bene al cento per cento cioè ci metto tanto impegno e tempo per studiare quella cosa e fare un corso da orologiaio per me non significherebbe farlo così en passant ops devo andare faccio il corso sì vabbè no mi ci butto dentro il capofitto e so che tutto il mio tempo lo devo dedicare lì sennò viene male e non lo faccio non mi serve non ho interesse diciamo così cioè avrei interesse in senso ampio lato generale ma non non mi va di farlo perché cerco piuttosto di informarmi così in superficie per quello che faccio io per quello che utilizzo io gli orologi e per come l'intendo io il corso da orologiaio no non mi interessa ciao davide se dovessi scegliere un solo cronografo da tenere in collezione senza pensare al corso cosa ti porteresti a casa pittipum pittipa pittipero lo dico subito il lo zenith è il primero tra tutti questi quello che vorrei è lo zenith è il primero che mi diceva come ma non venga più il master è nell'elenco è preso prima quello sì ho preso prima quello perché non c'è ancora uno zenith è il primero che mi soddisfi al cento per cento quindi essendo una spesa una spesona oculo ragiono aspetto attendo quando verrà fuori che ne so quello da 40 millimetri con una cassa particolare bla 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 magari poi mi ci butto e lo prendo ciao davide secondo te potrebbe avere più senso aspettare più tempo per prendere un orologio più serio e costoso e quanti più ci hai messo oppure godersi varie marche anche minori può essere comunque un'alternativa valida soprattutto se parliamo di entry mid lever ognuno decide un po come fare ma io stesso prendo un orologio un po un po costoso e poi mi diverto anche con con altri marchi entry mid level faccio questa cosa qua poi a un certo punto ne puoi vendere 3 4 mid level entry level e prenderti quello più costoso cioè deve essere una cosa un po in divenire in movimento dinamica non statica ecco l'unica cosa che mi sento di suggerire di non fare una cosa statica cioè prendere un orologio e avere solo quello non comprarne altri per tre anni io mi sentirei mi sentirei ferito nel profondo cioè non è possibile tutti quelli che ti girano torno che ti passano e non volerne uno a che fosse un vintage da 100 euro e non volerlo provare al polso e andarci in giro per me è possibile quindi se ti riesci a stare con un orologio prendere uno da 5 mila poi stare tre anni senza comprare niente puoi fare così quella bocca triste all'ingiù oppure prendere una da mille venderlo prendere un altro da mille venderlo insomma fa un po come ti pare a te eh ciao davide conosci il micro brand militum e se sì cosa ne pensi e di spinnaker e infine compreresti l'octo finissimo e quante domande mi fai militum militum io non lo considero un micro brand personalmente militum è uno store fisico a roma un negozio milito che vende orologi militari poi fa fare gli orologi da catalogo con il marchio militum e te li sparacchia dentro lì sono un po' orologi visti rivisti ovunque con altri marchi dove lui ci fa scrivere militum un po' come se io facessi lo store cecchini at war e poi mi metto gli orologi militari fatti da catalogo con scritto cecchini the combat è uguale spinnaker spinnaker è un marchio inglese che fa produrre a hong kong fa parte di un grande gruppo del quale non mi ricordo il nome ma del gruppo fanno parte anche la v8 james mccabe e fa orologi a basso costo è abbastanza originale abbastanza fatti bene ma non mi sento mica di sconsigliare e infine compreresti l'octo finissimo lo comprerai per i contenuti tecnici per la bellezza per l'opera d'arte però non lo compro perché non me lo vedo al polso non mi sta bene non mi piace al polso ciao indossare doppio orologio cosa ne pensi mi riferisco a smart watch garmin apple watch che ormai per per dati sportivi saluti sono eccetera sono diventati indispensabili cosa ne penso beh venga se ti vuoi mettere a sinistra a sinistra l'orologio meccanico e a destra un apple watch uno smart watch o un fava watch ti puoi mettere quello che vuoi non sono mica io a giudicarti fai quello che vuoi se ti vuoi mettere due orologi meccanici mettetene due se tu vuoi mettere due smart watch mettete due io vado in giro con uno perché non ho mai avuto uno smart watch un apple watch o qualcosa al polso di elettronico perché non ne ho bisogno semplicemente per quel motivo lì poi magari scopro che non ho bisogno lo provo una volta dico mi ma c'è tutte queste funzioni al momento le funzioni che io conosco di uno smart watch non mi servono non le voglio ciao big david cosa ne pensi degli orologi shanghai se li conosci vengono venduti a pochi euro su aliexpress hanno un movimento molto basico ma a me non mi sembra che vengano venduti a pochi euro ma quelli che ho visto io costicchiano anche qualche centinaia insomma è un marchio cinese che fortunatamente è orgoglioso di essere cinese sul quadrante ci scrive gli ideogrammi e in cassa e calibri non mi ricordo cosa secondo me sono validi nel senso se uno non è che ti dico di fare la collezione di shanghai di avere tutta la i shanghai sono i bastoncini di fare tutta la collezione di orologi di shanghai tutti i modelli shanghai ce li ho apri la scatola guarda qua e dico ma sei un coglione però se te uno vuole un orologio cinese propriamente cinese shanghai va bene oppure seagal vanno bene però costicchiano un pochino secondo me grande davide vorrei che ti comprassi un seiko ne parli sempre bene ma non ne hai neanche uno disquisiscimi perché quando si arriva poi a quelle cifre lì da spendere sui mille perché sono quelli seiko che mi piacerebbero quello con la cassa 62 mas o anche un king seiko e poi c'è sempre qualcos'altro che mi porta via no mi porta via per il braccio mi dice ma piglia anzi questo vorrà dire qualcosa vorrà dire che insomma non mi piacciono abbastanza vuol dire che non lo ritengo abbastanza validi per quella fascia di prezzo non lo so so solo che non mi riesce prenderlo però mi piacciono ciao davide cosa fai di lavoro oltre alla gestione del canale e social media se è un grande il canale è il top il mio unico lavoro è questo qua su youtube ok con tutto quello che comporta intorno e in più investo anche in borsa cioè non è che faccio trading trading sarebbe compra vendi compra vendi no io investo a lungo termine medio a lungo termine quindi non faccio i salti mortali però nel momento in cui gli investimenti vanno bene poi dopo ti senti più motivato a spendere i soldi che guadagni perché c'hai da parte qualcosa che sta aumentando di valore capito quindi si può considerare come un lavoro anche quello poi ogni tanto vendo qualche etf in positivo quindi piglio il guadagno per comprare qualcosa in negativo ma non è trading guardi altri canali youtube italiani di orologi e se si quali guardare è un termine un po' grosso nel senso sono iscritto a una decina sono una marea adesso sono veramente una marea alcuni veramente inutili a una decina ma più che altro per vedere mi guardo le copertine i titoli e poi magari vado avanti alcuni invece capita che poi guardo anche i contenuti di interesse mi può capitare tic tac watch channel che è quello di Stefano l'orologiaio lui si che è orologiaio e fa qualche magari è sui quadranti ristampati magari fa qualche video sui longini l'ho visto gli longini lui li fa i video oppure lo zio poli a volte fa qualche video interessante però si insomma sono iscritto a tanti guardo le miniature e poi magari passo oltre ma non a tutti non a tutti non a tutti si meritano la mia iscrizione come disse quello lì ragazzi qua sono finite le domande e anche le risposte io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisici come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica musica Grazie a tutti.